Vi rimando alla vista, veramente eccezionale Steve che sta guidando Ciao Steve Ciao Scoreccia come un porco Le onde stanno arrivando Buongiorno a tutti Ok sono tornato in Italia Buongiorno a tutti Allora ho appena finito di caricare l'ultimo video che avevo dalla California Quindi dovevo ricominciare a farli qua in camera E presto comincerò come vi ho detto a fare video in strada C'ho là il microfono che mi è appena arrivato E non vedo l'ora di farli Prenderò un amico ogni domenica E andremo insieme in città O vedremo dove deciderò a provare a chiedere alla gente qualche domanda eccetera E ecco però oggi nuova lezione Dato che in California sono andato a un evento di Darren Hardy Che ho pagato 500 dollari mi sembra per andare a quell'evento Ma come vi dico sempre investire in noi stessi Lo so era tanto ma io davvero credo che più investi in te stesso Più puoi fare le cose meglio Più quindi poi puoi investire ancora in te stesso Quindi più cresci eccetera Continui no? E quindi ecco l'argomento di oggi era Siccome Scusate ma sono andato in palestra e mi si stanno ammazzando le mani Forse devo provare a mettere dei guanti Andiamo qua Aia Aia che male Aia Aia ho appena visto che mi si stava staccando Un secondo Comunque Se andate in palestra usate i guanti Questo è un consiglio utile Altro che L'argomento di questo evento era produttività E veramente io ho letto molte cose di Darren Hardy Quasi tutto Però mi ha dato altre nuove idee E all'evento diciamo ho aggiunto anche il fatto che mi sono iscritto A un suo programma online Che in totale un mille dollari saranno andati Ma ecco Cosa voglio fare per voi Gentilissimo Condividerò per voi in italiano Le cose che imparo in questo corso Che ho già imparato Che già so Su produttività Su come fare le cose meglio Gestire il proprio tempo meglio Avere priorità Quindi ecco questo è il programma Lo stampo ogni file che ricevo È lunghissimo Lo studierò E nel frattempo condividerò con voi le cose Le cose che imparo Spero vi saranno utili E lo farò un po' Un po' col tempo Qualche video qua Alcuni podcast Può essere Di là E se vi piace l'idea Fatemelo sapere Perché continuerò A condividere le cose Che sto imparando Il consiglio principale di oggi Era uno Quello del concentrarsi Su una cosa alla volta Poiché siamo Circondati adesso Da informazioni Che ci arrivano Ci arrivano Continuano a arrivarci Ne ho già parlato In un podcast Ma volevo rifarlo nel video Continuano a arrivarci Facebook Twitter Instagram Snapchat Mail Telefonate TV Radio È una cosa incredibile Se non stiamo attenti Possiamo perdere tutte le giornate Senza che nemmeno Ce ne rendiamo conto Io stesso Continuo a combattere Questa cosa Proprio adesso Dopo che ho fatto questo corso Ho capito Quanto tempo perdevo In queste cose E sto cercando Di organizzarlo meglio Per esempio Se adesso vado su Facebook Vado Cerco di andare In certi orari Se ho pubblicato Un video Eccetera Cerco di programmare Su Facebook Per voi Per farveli vedere Poi rispondere Ai vostri commenti In tempi determinati Mentre prima Magari due mesi fa Un mese fa Continuavo a guardare Facebook Perché diventa una malattia Sono andato a vedere Il lato psicologico di questo Il fatto che noi vogliamo Sempre essere al centro Dell'attenzione Comunque ci piace Quindi vedi Oh una notifica Ah che bello Una notifica Yuppie E poi Pubblichi una tua foto E Oh Pubblichi una tua foto E Oh Nessuno ha messo mi piace Dai Dai qualcuno metterà mi piace Amesso mi piace Sì Così Un po' Un po' È un po' Diciamo esagerato Però È così Nella nostra testa No Vogliamo Pubblichiamo una foto Pubblichiamo uno stato Qualcoso Lo stato è quello che scrivi Su Facebook Uno stato Quindi ecco, e questo diventa una cosa ossessiva Ma non perché vogliamo, ma è il nostro istinto naturale, no? Volere essere al centro dell'attenzione, comunque essere voluti Voluti, sì, si può dire così Quindi, come fare a regolare queste cose? Un po' alla volta Se passate 24 ore, 10 ore al giorno su queste cose Cercate di passarne 8, poi 7, poi 6, 5, 4 Cercate di eliminare tutte le cose che non vi servono Io prima ero fan di tante pagine, adesso sono fan di cose che mi interessano Tipo, fransutentic, ho lasciato fan la pagina, eccetera E guardo, magari una volta al giorno, una volta ogni due giorni Guardo due minuti se c'è qualcosa di nuovo, così che me lo salvo, eccetera Lo stesso potete fare con quello che metto sulla mia pagina Salvate, mettete magari, salvate come preferite la pagina Non so, ci deve essere un modo per ricevere quando pubblico qualcosa Così non dovete più guardarlo, lo guardate una volta al giorno E vi salvate il materiale che volete usare per il vostro apprendimento dell'italiano, no? Così che non perdete tutto il giorno magari guardando la mia Guardando di qua, chattando, ta 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 Poiché diventa davvero... Non è meglio della tv una cosa così, ovvero Sapete che io prima guardavo reality tv, eccetera, così Perdevo moltissimo tempo, un casino di tempo lì Ma è importantissimo regolare queste cose Quindi ne parlerò ancora Comunque per tenere il video corto, finiamo così oggi Ma cominciate a pensare quanto tempo io sto spendendo sui social networks E quali sono le cose necessarie per i miei obiettivi Cosa davvero devo tenere Se state imparando l'italiano, ovviamente non cancellatemi Non cancellatemi No, però a parte gli scherzi Se state imparando l'italiano Salvate quando pubblico i post Così vedrete quando ci sono nuovi video O cose che vi possono essere utili E controllateli non otto volte al giorno Di qua di là Una volta al giorno Decidete magari un'ora Due o tre volte al giorno Decidete voi Delle ore in cui volete guardare Controllare le vostre cose E per poi salvarle E usarle al di fuori di internet, no? Al di fuori di facebook, eccetera Poiché sono macchine della distruzione del tempo Se ci pensiamo Quindi ecco Vi mando un abbraccione Spero sia utile per voi E ci sentiamo prestissimo Magari in un video in strada Spero O se no la prossima settimana Li farò in strada Vediamo Un abbraccione E ciao ciao Ciao